Per la casa ideale, moderna o rustica, in cemento o in tela, per la casa ideale, CGE, CGE Casa. CGE, lavatrici automatiche che conservano alla biancheria il senso del nuovo. CGE, frigoriferi a chiusura magnetica, il giusto freddo per ogni cibo, in ogni stagione. CGE, televisori a luce calda, con controllo di sintonia automatica nel primo e nel secondo canale. CGE, ferri da stiro che durano tutta la vita. CGE, condizionatori d'aria che fanno sempre primavera. CGE, tutti gli elettrodomestici per la casa ideale. Solo con CGE, la casa è davvero ideale. Ok, CGE.